Ora rischia davvero grosso. Liu Xiaobo è uno dei più famosi dissidenti cinesi che ha già scontato 20 mesi di carcere e 3 anni nei campi di rieducazione per aver partecipato alle proteste di piazza Tiananmen nell'89. Ma ora nel processo che è iniziato a Pechino di fronte al Tribunale del Popolo Intermedio numero 1 rischia una condanna fino a 15 anni. L'accusa è gravissima, istigazione alla sovversione. Questo perché Liu ha promosso la Carta 08, un documento con cui si chiede l'instaurazione di un regime democratico in Cina. Questa volta, però, contrariamente all'89, forse la comunità internazionale si è mossa con maggiore determinazione. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che all'opoca del resto non esisteva neanche come soggetto politico, hanno fatto pressioni insistenti sul governo. Una mossa che ha maggiori possibilità di fare breccia, anche perché la Cina stessa non è più quella dell'89, ma un colosso economico entrato nel WTO e che ha negli Stati Uniti e nell'Europa importanti interlocutori economici e politici. Persino la popolazione è differente rispetto a 20 anni fa, infatti molte persone si sono radunate nei pressi del Tribunale per protestare contro l'ingiustizia del processo. Liu, accanto suo, ha già anticipato che non presenterà appello contro la sentenza. Il motivo lo spiega la moglie, che con poche parole illustra il quadro. Non presenteremo appello, dice, perché non ce n'è alcuna ragione. Questo non significa che condividiamo la condanna, ma che non ha senso dialogare con un governo che non vuole ragionare e non ha principi. La sentenza è attesa per veredì e si spera che Pechino sia sensibile alle pressioni esterne, anche se di solito la Cina è sempre piuttosto insofferente a quelle che definisce ingerenze estere. Gianluca Ales, Schettig24 Ales, Schettig24